Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi questo è il mio secondo video di oggi E oggi siamo su Wrestling Car Wrestling Car, consigliato sempre da Simone Samo che ringrazio moltissimo E ho deciso di portarlo perchè il primo episodio ha avuto un successo pazzesco Quindi ho voluto riportarvelo proprio per farvi divertire ancora di più Mi hanno detto che ho fatto abbastanza cagare con quei punti quindi devo assolutamente migliorare Bene, direi di senza perdere tempo di andare a cominciare subito a migliorarci E bene, perfetto Mi sentirò male, ve lo dico già subito Ok, già partiamo malissimo in una maniera... Oddio, oddio, no, 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 calmo, calmo, calmo Allora ragazzi, siamo con una BMW signori Dai, 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 devo fare il sorpasso della vita Ok, sorpasso della vita, 10 dollari fatti Bene, 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 noi intanto facciamo più metri possibile Bene, 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 benissimo, benissimo, benissimo Cazzo, madonna che dribbling Ubriacante, riesce la Veronica Sono a 40 già Di scorre, fortunatamente Ragazzi, ma che sorpasso ho fatto prima Una provata assurda Perfetto Oddio Ok, un'altra provata assurda 170 km orari Ragazzi, stiamo impazzendo qua Faccio un tear Bisogna evitarlo Perfetto Ok Sì, sembra che mi sto schiantando contro il guard Ray Guard Ray Ok Ecco appunto, come ho fatto adesso Eh sì, adesso mi sono schiantato contro il guard Ray Eh, perfetto Beh, perfetto un paio di ciuffoli Cioè Ragazzi Non so, devo decidere quante partite fare Perché Oh Cazzo Bene Mi sono mosso Devo restartare Restartiamo Perfetto Ok Vai, 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 vai Cerchiamo di fare delle belle partite Perfavore Massimo farò un video di 20 minuti Dove taglierò poi le parti Le partite migliori Le taglierò Perfetto Sperando di fare bene Di fare molto bene Sì E evitando di prendere guard Ray Cioè Devo proprio evitarlo Ulle 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 Oh madonna mia Le proate Le proate signori Mamma mia Che proate Sì mi chiedo scusa Se mi sono stampato Come un deficiente prima Ma Mi sono mosso Leggermente mosso Qua c'è la sensibilità Al Gesù Sì La sensibilità al Gesù E bene Perfetto Direi Di proseguire La nostra marcia Allora Allora Cercando di fare Del nostro meglio Io sto cercando Di fare del mio meglio Ragazzi 120 sono già arrivato Olle E Ma No Dai Non l'avevo preso Ma non l'avevo preso L'avevo mancato Ma dai Che cafonata Dai ragazzi Che ce la posso fare Che ce la posso fare Ho già fatto Tre minuti di video E ho fatto schifo Al cazzo Perfetto Buona sapersi Raga Raga sto facendo schifo Raga sto facendo schifo al cazzo Ottimo Bene 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 Molto bene 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 Dai 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 Cazzo Dai Cazzo Devo dire che è una strada dove Ci sono quattro corsie Con le doppie strisce in mezzo Dove si va in un'unica marcia Cioè in un unico senso di marcia Non l'ho mai vista Quindi non avrebbe molto senso Fare una strada così Però va bene Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Devo impegnare No No Cosa fai tu Cosa fai Devi stare Molto calmo Tier del cazzo Ok Partono i scleri male Noi schizzo male Come dice In un video Bene Non ci perdiamo i minchiate Continuiamo La nostra proseguo Buongiorno Salve Buon uomo Olè Madonna Che dribbling Madonna Che dribbling Olè Madonna 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 Raga Devo fare tutto il filo di rasoio Ok Sì sì Mi faccio i specchietti in uova Mi faccio Ciao Ragazzi Sto facendo Big money Ma tanti Big Ok Ok Sì devo starli Al filo di rasoio Così almeno faccio punti Ok Ok Raga sto facendo una quantità industriale di punti Sì lì ho fatto dribbling ubriacante Ok 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 Oh cazzo Bene ragazzi Benissimo Cioè però è figo Bisogna fare Cerchiamo di fare il filo di rasoio Raga mi sa che lo terrò tutto La registrazione di sto video Devo cercare di fare il filo di rasoio Così faccio tanti soldi Ma tanti 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 Ok 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 Ogni volta che prendo ok Ok Oh cazzo Ok Ok Perfetto Vai che Ma perché va piano quello? Ok Già fatto 80 Ok Ok manco per il cazzo Non l'ho preso Ora si Due Ah Ah Aiuto Oh madonna mia Pensavo di essere schiantato come un pirra Eh Oh cazzo ragazzi Veramente inquietante fare così Oddio Già 160 Ecco Sapendo Poi mi sarei schiantato come un deficiente ritardato mentale Perfetto Ritentiamo Però ragazzi Devo cercare di fare Le rasette Alle macchine Perché se no Non serve un cazzo sto gioco Bene Proviamoci Allora Facciamo le rasette alle macchine Ok Ok Ecco per il cazzo Ok Siamo già a 20 Ciao Come stai? Bello il tuo fuoristrada Mi piace Volevo non usargli l'odore del tuo fuoristrada nuovo di pacco Sì mi piace Buongiorno Buongiorno Oh ragazzi Ragazzi Cosa cazzo ho fatto? Ma che cazzo di ecco Lo sapevo che mi stavo Ritardato mentale Mi sono distratto come un coglione Però ragazzi Ho fatto una provata lì Ma ci sta Sto gioco ci sta proprio Vai BMW Vai BMW Spengi cazzo Spengi Schiaccia su sto cazzo di acceleratore La 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 Basta Ok Ok Manco per il cazzo Non me l'ha segnato Ok 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 Porca troia Oh raga Tento un'ultima partita Però cerco di farla del mio meglio Poi termino il video Bene Tentiamoci Ho fatto senza tagli sto video Ma va bene lo stesso Ci sta senza tagli sto video È veramente bello Devo trovarmi ancora una copertina decente Per sta serie Adesso Vedrò di crearne una bella No ma adesso qualcuno mi deve spiegare qua una cosa Ehm Sì Perché Per quale cazzo di ragione Come faccio a passare ora Adesso Vabbè Raga termino il video Prima che spacco tutto qualcosa Direi che per oggi può bastare anche così Spero che il video vi sia piaciuto Spero che sta serie vi piaccia Io la porto proprio perché So che vi è piaciuta Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace E alla prossima Belli Ciao 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 ciao